Buongiorno a tutti ragazzi sono Ricky MZ e come sempre sono qui con un nuovo video però prima che cominci il video volevo informarvi sul fatto che questo video parlerà più che altro di informazioni che stavo pensando in sto periodo e cazzate vari quindi prima che cominci il video volevo dirvi questa cosa comunque il video parla di come fare un glitch del bunny hop con un camion quindi è abbastanza divertente da fare con gli amici quindi spero che vi piaccia bella la prima cosa da fare è avere un amico che vi segua sul camion però non deve salire dentro al camion ma sopra il camion quindi deve andare sopra il posto del passeggero come vedete nel video e quando sarà qua dovrà salire dietro al rimorchio cioè sopra al rimorchio saltando con quadrato o x se siete su... mi sembra x comunque vabbè salirà e ci sarà un piccolo saltello del... un piccolo saltello... un salto del... del track del camion e... è molto divertente da fare con gli amici quindi ve lo raccomando e non c'era da molto però non sapevo cosa cosa fare in questo video invece di parlare perchè volevo dirvi che i glitch dei soldi li farò... ce ne sono tanti che ho scoperto soltanto che ne farò uno a patch perchè alla fine mi sembra anche inutile farne più di uno e... volevo anche dirvi che... volevo cominciare una serie di gameplay però... non... non ho le basi per adesso perchè... volevo farli con la facecam e... sarebbe anche divertente da fare comunque... devo trovare dei giochi belli da fare anche divertente anche delle cazzate da fare ovviamente perchè... non sarei un bravo youtuber se non facessi cazzate no vabbè comunque volevo dirvi che... spero che il video vi sia piaciuto le informazioni ora che ci penso erano davvero poche comunque vabbè... spero che vi sia piaciuto lo stesso e quindi... se vi è piaciuto ovviamente mettete un bel mi piace commentate per suggerirmi qualcosa da fare perchè mi piacerebbe molto suggeritemi tutto quello che dovrei fare e... iscrivetevi al canale per vedere altri... altri video di glitch di... eh... pfff... non ce la farò mai comunque per vedere altri video di GTA e contenenti glitch, informazioni e cazzate varie io sono RichiamMZ bella!